Ciao a tutti, volevo presentarvi il mio ultimo lavoro di restauro su una zampogna antica fino al 1800-inizio del 1900 si crede della zona di Castanea delle Furie. L'ho restaurata partendo appunto dal rifacimento completamente nuovo del ceppo in legno di ciliegio, perché il ceppo vecchio è questo qua, è completamente di legno marcio più attaccato dagli insetti e oltretutto gli incastri non sono più efficienti in quanto le canne cadevano, di fatti sono tutte quante rotte e abbiamo preferito farlo nuovo in ogni caso. Adesso ve la faccio sentire nonostante l'accordatura è una delle migliori è accordata in si bemolle nonostante la lunghezza è di 42 cm Grazie a tutti! Scusate per gli errori ma ancora non sono molto bravo a suonare Abbiamo detto che le ance sono di materiale sintetico, sono delle ance doppie come queste qua ad esempio sono delle ance doppie di plastica, una plastica particolare mi ha insegnato a farle l'amico di Gigilizzo da Monopoli che saluto nel frattempo che ovviamente poi l'ho pulita all'interno ho dovuto rifare la cameratura del basso e della quarta all'inizio perché si erano stretti e le ance non riuscivano a vibrare bene erano invece di essere 6 mm il basso era diminuito, era un 5,5 cm quindi non si sentiva forte e in ogni caso non avrebbe potuto suonare assolutamente Grazie per la visione, spero che vi sia piaciuto Arrivederci!